Sembrerebbe che l'asla di Salerno, nel silenzio generale, avrebbe intenzione di decapitare la radioterapia di Agropoli, con gravi conseguenze sui tanti pazienti, in particolare della zona sud della provincia, che avrebbero difficoltà ad accedere alle cure. Lo scrive sul suo profilo social il consigliere comunale di Salerno, esponente di Forza Italia, Roberto Celano. Eppure, continua il consigliere, se ciò rispondesse al vero, si priverebbe la zona di un funzionale struttura in cui si stanno per installare macchinari nuovi ed avanguardistici per circa 5 milioni di euro. Radio Sargeri ha un contratto in essere con l'asla che, se rescisso, rischierebbe di interrompere le cure salvavite a numerosi pazienti oncologici in una struttura di pregio della nostra provincia ed avrebbe come conseguenza la perdita del posto di lavoro per una ventina di dipendenti. Le istituzioni regionali e provinciali si accertino sulle reali intenzioni dell'asla ed intervengano immediatamente affinché la zona sud della provincia non venga ulteriormente penalizzata da scelte incomprensibili e scelerate.